Alla fine sono stati 15 le finaliste e i finalisti dell'edizione di quest'anno del premio letterario Scrivere Donna, indetto da Neosedizioni. I loro racconti sul tema Lavoro Dunque Sono saranno pubblicati nell'omonima raccolta antologica e offriranno una riflessione sulle esperienze, i sentimenti e i pensieri delle donne alle prese con il valore esistenziale del loro lavoro. La giuria del premio speciale Città di Rivoli è stata composta da 7 persone, 7 persone che però non sono state scelte a caso. No, la giuria nasce in seno alla biblioteca civica tra i frequentatori più assidui e lettori della nostra biblioteca che hanno costituito un gruppo chiamato Presidio del Libro. Sono persone appassionate e frequentatrici della nostra biblioteca alle quali abbiamo aggiunto degli esperti nella materia trattata e cioè le politiche del lavoro, attingendo tra i colleghi dell'ufficio lavoro. Arrivare ad un giudizio non è mai semplice, voi avete scelto, ha detto però un giudizio di pancia, un giudizio sincero. Sì, ho dettato proprio da quello che è la sensazione del lettore, quello che il lettore vuole conoscere nel leggere un racconto è l'emozione e quindi noi ci siamo lasciati guidare dalle emozioni. Valeria De Cubellis si è giudicato il premio speciale città di Rivoli, un racconto il suo che parla di una fatica, una fatica quotidiana di una OS. La fatica quotidiana di una OS che appunto Amalia Miranda fa come professione quella dell'operatrice sanitaria, socio-sanitaria, però in realtà come tante donne lavora sempre a tanti impegni di incastrare, orari, figli, marito. E quindi si trova a vivere una giornata talmente impegnativa, talmente intensa che una giornata sembra valere ben più di una giornata, addirittura sette insieme. Poi finita la settima inizia anche l'ottava e poi anche la nona, parla di questo. Raccontare le donne da una donna non è semplice ma c'è qualcosa di vicino alla realtà in questa storia che ha provato a raccontare? Direi di sì perché Amalia Miranda è rappresentativa poi della vita di tante donne, di molte donne. Ognuna di noi ha nella sua esperienza quotidiana proprio un po' la stessa attitudine, la stessa necessità e quindi direi che è proprio emblematica di una storia che è quella comune a tutte le donne, che hanno una famiglia, che hanno un lavoro, che sono madri, mogli e sanno fare tante cose con tanta forza, di volontà, tanto impegno e tanto amore.